Prova ricetrasmettitore in asta su ebay, Sommercamp FT277 serie 6G180-057. Prova di potenza in 40 metri. Sono quasi 150 W di picco che vengono mantenuti anche in banda laterale. Andiamo in banda laterale. Hola! Hola! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vediamo l'efficacia dello speech processor. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Così era acceso. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Così invece è spento. Come potete vedere lo speech processor funziona in maniera perfetta. Facciamo una prova di potenza in 10 metri, dove chiaramente la potenza normalmente è più bassa. Eccoci qua in 10 metri. 10 metri di, quindi siamo a 29,650 sul carico fittizio. Vediamo la potenza, siamo in tune. I finali assorbono 350 mA per una potenza di picco di oltre 110 W. Anche in ssb. Ola. Siamo oltre i 100 W. Ola, 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 ola. Ricezione CV doppio 40 metri. Proviamo il filtro. Sì, sì. Filtro inserito, senza filtro. Sì, sì. Sì.